Ti faccio un esempio, Johnny è la spalla destra di Frank per quanto riguarda si appoggia per le scommesse. Cosa succede? La gente viene, vede il burger aperto, viene da te, fa la scommessa da te e poi ti vieni da me e me le fai te, capito? Pagano tempo che parole. Buonasera. Posso sapere un'informazione? Prego, prego. Mi sapete indicare a che via si trova il garage centrale? Premetto sono nuovo in città. Sì, sì. Spieghi te, v... Johnny? Eh, il garage centrale, vabbè, sarebbe quello là. No, è quello vicino alla polizia. Perfetto. Aspetta, ti dico il civico, aspetta. Allora, rimane... Allora, il 204. Allora, il 204, civico 204. Perfetto, grazie mille. Come ti chiami? Fabrizio. Bella, Fabrizio. Oh, Fabrizio. Quando vuoi, vieni a fare una scommessa qua, giochiamo le partite di calcio. Ah, sì? Sì, sì, qui, ad esempio, stasera c'è la Champion. No, ora siamo aperti, siamo aperti. E allora una bolletta al volo me la faccio? Eh, vieni, vieni. E' grande Fabrizio. E' Fabrizio che vinci sicuro. Ecco qua. Dici, ho già guffato, no? No, manca a far così, eh. Allora, fai conto, giocano stasera... Eh, ci abbiamo... Vabbè, le partite di stasera sono Atalanta-Liverpool, Roma-Milan e poi c'è Bayer Leverkusen. Oh, facciamo... Noi abbiamo sull'applicativo le vedi le partite. Ok, allora me la faccio un secondo. Sì, se no te le dico io. Eh, se me le dici te... Sì, te le dico io, vai. Allora, ascolta, ci abbiamo Atalanta-Liverpool. Te puoi giocare tutte e quattro oppure una, due, tre, quattro, quante vuoi te. Va benissimo. Atalanta-Liverpool, lo metti due. Allora, Atalanta-Liverpool, due. Aspetta, dammi un secondo, mi si è impalato il computer. Tranquillo, tranquillo. Allora, eccola qua. Atalanta-Liverpool, due. Ok. Sì. Poi c'abbiamo Roma-Milan. Eeeh... Fai X-1, va. Roma-Milan. X-1, quindi... Eeeh... Roma o pareggio, giusto? Esatto, esatto. Ok. Poi Olympic-Marsiglia-Benfica, ti interessa? No, lasciala, lasciala. Ok. Wostam-Bayern-Liverpool. O due. Ok. Faccio riepilogo. Allora, mi hai detto, quindi. Roma o X, Atalanta-Liverpool, Liverpool vincente e Bayer-Leverkusen vincente. Giusto? Fabri? Sì, sì, eccomi, ecco. Quindi dicevo, Liverpool vincente, Roma o X e Bayer-Leverkusen vincente. Sì. Ok. Quanto vuoi giocare? Fai un 700... 800 dollari, vai. 800 dollari. 800 dollari, in caso di vittoria sono 3691 dollari. E allora rotondiamo a 1000 e così facciamo tutto... Spendaccione! E ci siamo una volta. Ebbè, allora, a 1000 dollari fai 4614 dollari. Perfetto. Salve. 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 Ok, ti faccio la fattura. Ok, la fattura la paghi... la paghi al computer accanto, qua. Sì, sì, di qua posto. Ah, il computerino, prova un po' con l'occhietto sul computerino. Con il muscolo alto. Lo so, lo so. Ah, ok. Perché mi sa... Hai con calma. Ti metti su un po'... Ma sei un tipo da padol? No, no. Ok. Vabbè, se vuoi puoi darmi anche direttamente a me, te la segno lo stesso. Puoi darmi il contatto diretto. Facciamo così che ti passo contento e mi ha un po' di problemi. Vai tranquillo. Numero 105. Niente, i muscoletti oggi... Non ne voglio sapere, via. Sì, stanno un po' tutti, non so il perché. Niente. Secondo che mi sto ritrovare i muscoletti che... Vai tranquillo, tanto noi qua stiamo. Vabbè, ho capito, però... Te fa una cosa, se vuoi provare a pagare, tanto la fattura è ancora lì, attaccata al portato, se vuoi provare a pagarla, appagala lì. Se non ti riesci mi puoi passare direttamente, come ti torna a te. Tanto so qui fuori un attimo. Potremmo fare qualcosa. Poi, c'è da un bisogno. Oggi è da 4 e 5, buon un grimaldello. Buon un grimaldello. Ma... Venga, ho un altro contatto. Come? Ho un altro contatto. Per cosa? Primardelli. Chi c'hai? Eh, un certo tigri. Va bene, fa la cosa. Mi piace conoscere uno del burro. Prova a chiamarlo e senti il prezzo che fanno anche loro. Vedi se è disponibile. Ok, lo vedo un po'. Com'è andata Fabrizio? Dovrebbe essere andata con la fattura vostra. Hai fatto il pagamento? Sì, sì, ho ripristinato un attimino i muscoletti. 50... Ok, sì, a posto, a posto è arrivato. Mostrami solo il documento e siamo a posto. Ti confermo la tua scommessa. E per me risultiamo pure questi un attimino di muscoletti che così stiamo tutto a posto. Sì, sì. Allora... Beh... Nuovo, nuove città? Che bella felpa hai c'hai. È la tua impegnata. Fabrizio... Quello che ho capito, scusami. No, no, chiedevo se di nuovo in città. Però se sei impegnato, la fai con calma, non ti preoccupare. Fatture, ma che fa figlia? Aspetta, non me le dà proprio. Vabbè, dimmi, fai una cosa. Facciamo così, Fabrizio. Come ti chiami? Fabrizio? Bevi. Bevi? Sì. Dai, direi che la chiedo il documento, però ti registro così. Se vuoi te lo riporto, diciamo, alla chiusura degli occhi e la riapertura che li resistiamo un attimo. No, vabbè, dai, io intanto ho uno screen, qui ce l'ho tutto registrato, non ti preoccupare, ho gli occhietti aperti. Perfetto, grazie. Fabrizio, bevi, dai. Cosa fai in città, Fabrizio? Eh, sono appena arrivato, mi sto ancora, diciamo, abbastanza... Ambientato? Sì. Sono un po' ancora confuso. Sei stato in altre città, oppure? Sì, sì, sì. Diciamo che vengo... L'ultima città, come si chiama? L'ultima... Questa è Code City, fai conto? Sì, sì. Invece con l'altra l'Italian Parades City. Ah, sì, dal delirio, capisco, capisco. Diciamo, no, però sono stato, diciamo, un annetto e mezzo in coma che... Era un po' così. Capisco, capisco. No, qua c'è più pace, guarda, ora fra due settimane c'è anche una sistemazione della città, fanno un bel lavoretto. Riavvio. Allora, scusate, vedo un attimo la chat ora intanto. Eh, perché quando faccio le scommesse, ragazzi, cambio schermato. Ora, come ho detto, vorrei mettere un telefonino per le scommesse e un telefonino per la chat. Quello è il tuo. Ho messo per uno marcio da usare per queste cose. Banda Lime sul comodo davanti. Stava bene. Mille e due scommesse, mille e due scommesse. Ciao, American P. Un saluto. Europa League? Chiede Foggiano. Sì, sì, Europa League. Più Coppa Italia. No, no, che Coppa Italia, scusate, è tutto Europa League. Sono chi giocano stasera. E vai un altro cliente. Frank, rifai la scritta betting così è più chiaro. E ma dura poco, ragazzi, dopo lo scompare, dopo un tot. Mi sembra dopo una settimana o qualche... Un po' io dicevo. No, non mi serve più Gris. Hai dicimi, lo lasci pronto da usare? Eh. Vabbè, se facciamo così, se mi serve, te lo dico, dai. Vabbè, Fabrizio Levi, l'abbiamo registrato, per sicurezza. Precuità di C6, Iron Bunny. Iron, fino alle 9, oggi. Che giornale è oggi, scusate, ragazzi? Oggi è giovedì, ecco, domani sera, domedì, mercoledì, venerdì, la sera. Ora, tranne mercoledì, che c'era la Champions, volevo vedere quelle partite, non c'era. Però, ad esempio, anche domenica sera ci siamo. Fai un'altra rapina, questa è Cody, nascondi la grana, questa è Cody, mi sembra che qua sono tutti matti, ma non mi interessa, voglio stare bene. Faccio un altro colpo, poi scappo via dalle sirene. Non è vero un cazzo al palo. La grande e il sole lo sanno tutti, ma non è un cazzo al palo. Tipo che metto la nana alla piccola e arrivo, semmai. Ma sai dire? Mi hanno detto se il gioco è stasera. Sì, dobbiamo vedere il film, vediamo dopo. Non lo so, non si sa mai. Ok, Fabri, tutto a posto, mi pare, no? Sì, sì. Ora, vuoi riprovare a passarmi il documento, se ti viene? Sì, certo. Vediamo un po'. Poi sistema tutto con calma, ti metti là con calma. Eh, sì, è che è stato principalmente un problema di... Ok, ma mi risultava pure... Niente. Ok, ok, ok. Mi ci trovo, ma. Sei troppo simpatico, ti metti a rifarlo. Niente. Diciamo che... Andrò dopo un attimino a chiudere gli occhi e vedrò di sistemare tutto il... Sì, fai tutto con calma. Ti posso chiedere un'informazione? Dimi tutto. Un attimino una dinamica. Ora che sei qua, approfitta, vieni qua, vieni. Devi qui fuori. Dimi tutto. Chiedevo. Io, diciamo, questa mattina, prima di andare a lavoro... Ti metto un bravo ragazzo, eh. Avevo comprato una moto al self-service. Ok. L'unica cosa è che... Mi dici... Che... Ok. Va bene così. Fabrizio, ottimo Fabrizio. Buono, buono. Così è andato. La musica hits me so hard, makes me say, oh my lord, thank you for blessing me. What am I to run and do like, it feels good.